Siamo qui con Enrico Rocca dopo la vittoria contro la Prodronero nel derby, che partita è stata? Ma è stata una partita combattuta perché sapevamo che questo per noi è per loro un derby e quindi i derby si giocano sempre fino alla fine, diciamo che è andata bene dall'inizio perché siamo riusciti a sbloccare la partita credo al ventesimo dopo un quarto d'ora e quindi questo ci ha aiutato comunque a essere un po' più liberi con la testa e a giocare più con la palla. Siamo stati bravissimi secondo me rispetto anche alle scorse partite, a gestire il pallone e quindi avere la freddezza di trovare le giocate giuste e quindi trovare le scelte migliori e quindi di questo siamo contenti, secondo me abbiamo fatto una grandissima partita sia a livello tattico che tecnico. Un gran gol tuo, raccontacelo. Sì, è andata bene perché è arrivata una palla sull'esterno, ringrazio il terzino Molli, un grande, che ha messo questa palla in mezzo, io non segno mai di testa, questa volta sono stato fortunato più d'altre volte, mi è arrivata la palla e finalmente l'ho buttata dentro e sono contentissimo per il gol. Abbiamo visto anche una risultanza particolare, quasi alla Florenzi se vogliamo. Sì, alla Florenzi perché c'è mio nonno che viene quasi tutte le domeniche quando riesce a vedermi e ora sono un po' commosso perché è una persona d'oro per me e dedico questo ora a lui perché ci è sempre stato e diciamo che mi ha portato lui a giocare a calcio e di questo ne sono fiero. Hai fatto commovero un po' tutti sulle tribune, sai? Sì, tornando al campo le cose si stanno sistemando per la giovanile Centallo dopo un inizio difficile dove può arrivare questa giovanile Centallo? Ma sicuramente non è stato un inizio facile perché ci aspettavamo un inizio migliore, abbiamo trovato qualche difficoltà, abbiamo cambiato tanto soprattutto a livello dei giovani però poi col tempo abbiamo trovato la quadra giusta anche grazie al mister, siamo sempre stati con il mister in tutte le partite anche se c'erano momenti di difficoltà, siamo riusciti a rialzarci tre partite fa col San Mauro e rispetto al scorso anno c'è tre partite consecutive e non li vincevano mai e quindi questo vuol dire qualcosa e dobbiamo continuare su questa strada perché ora non abbiamo fatto niente, finalmente siamo arrivati nelle zone a cui puntiamo perché non ci dobbiamo nascondere, siamo lì quinti e dobbiamo continuare a dare il massimo per toglierci grandi soddisfazioni. Grazie.